Ben trovati in aggiornamento con il Tg di 3b vero inverno sull'Italia per l'arrivo di correnti gelide dai quadranti orientali e stiamo facendo i conti su molte zone centro-sud con le nevicate che stanno interessando molte zone diciamo prossime alla pianura tratti anche fin verso le coste intanto stiamo vedendo però le buffere di neve che proprio in queste ore stanno interessando la zona dell'Etna complice un minimo di bassa pressione con forte maltempo e appunto sull'entroterra a quote di bassa montagna le nevicate e i forti venti ma non solo la Sicilia in generale l'Appennino meridionale è interessato in queste ore dal maltempo qui da queste immagini possiamo vedere quello che è successo questa notte sul Riminese le nevicate che si sono spinte fin verso la costa romagnola pochi i centimetri solo una spolverata in pianura ma sull'entroterra invece la nevicate è stata un po' più consistente con venti gelidi di grecale ecco le belle immagini che ci giungono proprio dal Riminese nella serata nottata di ieri con la spiaggia tra Cattolica, Riccione e Rimini che si è svegliata imbiancata questa mattina. Per quanto riguarda il satellite notiamo come il minimo di bassa pressione attualmente è posizionato proprio tra la Tunisia e la Sicilia ancora maltempo al sud graduale miglioramento invece al centro nord. In sintesi la previsione per le prossime ore attenzione a fenomeni intensi severi sulla Sicilia con neve in montagna fin verso i 500-700 metri di quota ultimi fiocchi di neve precipitazioni anche al sud peninsulare sul medio adriatico meglio altrove. Nel weekend invece torna l'anticiclone quindi venerdì ultime precipitazioni anche abbondanti sulla Sicilia poi nel weekend bel tempo un po' dappertutto e con un aumento delle temperature perché l'aria gelida verrà sostituita da aria un po' più temperata da ovest. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trabi Meteo.